Elia Campetti, difensore del Varese, anche oggi una buona prova, però poi l'episodio del rigore è fortuito. Raccontacelo Elia. Dio, è stata una solita infilata, loro giocano molto bene sulle infilate, io sono andato a calciare il pallone, Zammari che ha messo il piede, purtroppo ero in area, l'ho preso, fallo nettissimo, non posso dire nulla, però è da lì che è partito tutto. Sì, perché nonostante, insomma, al primo tempo avete concesso veramente poco, anche all'inizio della ripresa, probabilmente quell'espulsione ha cambiato un po'. Sì, con una squadra così non puoi permetterti di giocare con un uomo in meno e purtroppo l'espulsione e poi il rigore sono stati la svolta della partita. Però, insomma, anche oggi il Varese, così come domenica scorsa, ha tenuto bene il campo, poi naturalmente l'inferiorità numerica e dopo tutto è cambiato. Sì, possiamo giocarcela quest'anno, abbiamo tutte le carte in regola per essere una buona squadra di prima, probabilmente dobbiamo ancora un minimo trovarci perché abbiamo avuto tanti nuovi acquisti e ci sta, comunque non stiamo facendo male per essere le prime partite così, si può fare di meglio decisamente. Dopo due partite così però zero punti, naturalmente resta il vostro obiettivo, resta la salvezza. Assolutamente sì, possiamo puntare anche qualcosa di più, ma l'obiettivo principale è la salvezza sicuramente, certo. Dopo due partite sarebbe già bello avere qualche punto ma il campionato è ancora lungo, sappiamo che possiamo rifarci.